La Juve pareggia a Birmingham contro l'Aston Villa, partita se vogliamo bloccata, per tanti potrebbe essere stata noiosa diciamo, però un punto importante contro una squadra che ha preso solo un gol, perché l'Aston Villa in questa Champions ha preso solo un gol e la Juve stessa comunque nell'ultimo periodo non ha subito tantissimo, quindi diciamo che si prefigurava una partita di questo tipo, personalmente nel Fanta Champions ho pronosticato la 0-0, però a parte le battute, che non sono tanto battute, ma comunque un punto importante, Juve diciannovesima a 8, mancano ancora tre giornate, però ancora il sogno di arrivare agli ottavi c'è, perché la classifica lo permette, certo c'è il City alla prossima partita in casa, quindi sarà difficilissimo, però questa squadra ha dimostrato anche oggi di potersela giocare, una partita molto equilibrata, squadre che hanno lavorato quasi in entrambe le fasi, dico quasi perché qualche aspetto diverso c'è stato, però fondamentalmente a specchio, ovvio Juve con tante assenze, Juve che in panchina aveva come poi contro il Milan pochissimi calciatori, quindi c'era poca scelta per Tiago Motta, ha fatto solo tre cambi e quindi c'era poco materiale umano da cui attingere, squadre che come detto hanno lavorato in maniera molto simile, in particolare poi in non possesso, con questo 4-4-2, in pressione alta Aston Villa che andava uomo su uomo, in particolare poi su paralaterale, quindi quando si andava a sviluppare sulle fasce, con distanze molto ravvicinate, anche i difensori che erano pronti a spezzare la linea, mentre il terzino e l'ale opposta rispetto alla palla erano dentro al campo. In zone un po' più basse si lavorava sempre 4-4-2 in linea, con Watkins e McGinn davanti, squadra che lavora a zona, difendendo spesso su palla scoperta, perché poi lasciano costruire i centrali per andare più aggressivi anche in zone basse, in questo caso su palla laterale, e devo dire che poteva soffrire molto, infatti la Juve si è resa pericolosa nel primo tempo sui cambi gioco, in particolare poi sulla sua destra, perché quando l'azione si sviluppava a destra per la Juve, a sinistra per l'Aston Villa, si adigna che Bayley stringevano molto dentro al campo e quindi lasciavano tutta l'ampiezza opposta scoperta, e quindi eventuali cambi gioco potevano metterli in difficoltà nel dover fare corse orizzontali, e quindi un po' hanno sofferto quell'aspetto lì. Invece Juve che ha lavorato in maniera molto simile, andando uomo su uomo sulla prima costruzione dell'Aston Villa, difendendo sempre con questo 4-4-2, anche perché andavano a pareggiare la costruzione avversaria, su palla centrale si andava con comunque intensità, anche se spesso il portiere nel primo tempo non lo si è pressato, quindi si lasciava la palla scoperta al portiere, ma poi si andava con distanze molto ravvicinate su palla laterale, e i centrocampisti sempre accoppiati. Detto questo, interessante il fatto che in zone più basse di campo si difendeva 4-4-2 con UEA e Coup Miners lì davanti, con 6-Sao rispetto a Ildiz, che erano i due esterni, quindi i due esterni pendono i due terzini, diciamo che l'idea è quella. E' interessante il fatto che con 6-Sao fosse leggermente più avanzato rispetto a Ildiz, perché spesso l'Aston Villa costruiva a sinistra, o comunque portava Digne a lavorare molto in ampiezza, piedi sulla linea, e quindi con 6-Sao avanzava di qualche metro schermando la linea di passaggio del difensore verso proprio Digna, quindi questo era interessante, sarebbe bello farvelo vedere, però questo è, e tra l'altro lavoro importante da parte di Locatelli. Squadra che peraltro si è ricomposta anche bene, quando perdeva palla nel primo e nel secondo tempo si è ricomposta sempre abbastanza bene. Lavoro importante di Locatelli che era sempre pronto a scalare tra i centrali, perché per proprio questo fatto, cioè che a sinistra loro in fase di possesso portavano in ampiezza il terzino e dentro al campo nel mezzo spazio l'esterno, quindi la Juve per evitare di scivolare in maniera con corse non molto efficaci, cosa ha fatto? Ha fatto sì che Locatelli andasse su Rodgers, quindi quando si difendeva a basso Locatelli come riferimento diciamo nella sua zona aveva Rodgers e lo seguiva nei momenti in cui si inseriva verticalmente, quindi scalando tra i centrali Locatelli, spesso Locatelli ha composto questa linea a 5 finta per il semplice fatto che, ripeto, seguiva i movimenti di Rodgers, e Savona, il terzino destro, era pronta a uscire in ampiezza su Digna, quindi su Digna usciva il terzino, così come ha fatto Danilo quando è entrato, mentre sull'esterno lavorava il centrocampista, in quel caso di parte che era Locatelli, quindi l'idea era quella per superire questa costruzione un po' tra virgolette atipica della Stoneville, cosa che per esempio la Stoneville non ha fatto, cioè la Stoneville non ha lavorato in questa maniera con la costruzione della Juve, anche perché secondo me si poteva fare un po' meglio. Prima di entrare però nei dettagli della fase di possesso, parliamo un po' della partita perché nel primo tempo c'è stato un equilibrio sostanziale con la Juve che ha chiuso non benissimo, in realtà lavorando molto sotto palla e facendo fatica nel palleggio. Hanno preso loro poi una traversa al 45esimo con Digna su punizione, quindi si sono resi particolarmente pericolosi. Nel secondo tempo l'occasione più grande è di marca Juve con il miracolo di Ribu su Concei Sao, su questo angolo a rientrare sul secondo palo di Coop Miners e tra l'altro una Stoneville che ha fatto un po' più fatica nel secondo tempo nel trovare la profondità che nel primo aveva trovato diverse volte, nel secondo tempo hanno cambiato diverse volte gioco su Digna in ampiezza sinistra, ma poco altro anche per metti di una Juve che ha abbassato un po' il baricentro e concesso poca profondità all'avversario. Juve che poi fa entrare Danilo, terzino destro, entra anche in Bangulà a sinistra e fa gioli a centrocampo giusto nel finale e tra l'altro poi nel finale sempre su una palla inattiva, punizione di Tilemans sul secondo, esce Di Gregorio che non riesce ad andare in presa alta perché Diego Carlos fa una carica e sui suoi confronti segna Rogers ma giustamente quello che viene annullato e quindi finisce così in parità. Tiri un 18, ti rimporta 3-2, possesso palla 46-54 e vi ricordo XG 1.23 per l'Aston Villa e 0.44 per la Juve dimostrazioni di come si sia fatto un po' di fatica nell'essere pericolosi soprattutto lato Juve, quantomeno con grosse occasioni, con tante grosse occasioni. Chiudiamo il video con la fase di possesso e partiamo dalla Stone Villa. Questa era la disposizione in campo dei ragazzi di Emery con questo 2-4-1-3 di base con i terzini che partivano in linea con i centrocampisti spesso piatti peraltro nel primo tempo. McGinn che lavorava tra le linee svariando anche... che fino ha fatto il numero 10? è morto il numero 10, comunque McGinn lavorava svariando tra le linee riposizionamola un attimo giusto per giustezza e poi Rogers, a differenza di Bailey, lavorava molto dentro al campo perché la squadra a sinistra sviluppava con digna in ampiezza e l'esterno di parte che lavorava dentro, ovvero Rogers che quindi lavorava vicino a Watkins, Watkins che dava profondità infatti nel primo tempo la squadra ha cercato diverse palle sopra alla linea difensiva della Juve sulla corsa di Watkins, sulla corsa anche di Bailey che lavorava più largo perché per caratteristiche è più bravo a puntare l'uomo partendo largo e accentrandosi con Cash sempre pronto a sovrapporsi ma Cash che partiva un po' più bloccato rispetto a Digne che invece lavorava diversi metri più avanti rispetto al compagno dall'altra parte in costruzione bassa 1-4-2 e squadra molto diretta che cerca la palla sopra nel momento in cui si trova di fronte a una squadra che lavora con un baricentro alto come la Juve nel primo tempo poi nel secondo Juve che come detto ha concesso meno profondità e quindi poi a Stonville che ha fatto molta più fatica peraltro diverse occasioni interessanti sono nate da rimesse laterali questo è un tema interessante che andrebbe approfondito tema costruzione Juventus qui ho voluto mettere anche la Stonville perché in realtà c'entra e c'entra molto una Juve che nel primo tempo ha cercato tanto il cambio gioco sugli esterni diciamo che la Juve aveva pochi giocatori che davano profondità perché l'unico che l'ha data è stata Cup Miners con qualche inserimento ma nel secondo tempo se no praticamente nessuno come la trovava? la trovava con dei cambi gioco su Hildiz fissi un'ampiezza e su con Seisau fissi un'ampiezza a sinistra rispettivamente e a destra a destra la squadra quindi tiene in ampiezza con Seisau e Savona resta spesso bloccato non si è quasi mai sovrapposto anche perché conoscendo la Stonville la squadra che riparte molto molto velocemente credo che l'idea era quella di non concedere non prestare il fianco ecco per eventuali transizioni negative in cui si era messi male a sinistra invece lo sviluppo era abbastanza diverso perché Cambiaso tendeva a sganciarsi un po' di più con Hildiz sempre in ampiezza Cup Miners che poteva venire a legare il gioco incontro e UEA che invece spesso legava il gioco a destra quindi veniva incontro a destra non dando mai profondità la punta centrale non ha mai dato profondità a differenza di quello che fa Watkins con la Stonville ma banalmente per caratteristiche Juve che è stata pericolosa in tante transizioni positive anche perché la Stonville non gli aggredisce bene non fa tanti falli tattici quindi ha avuto modo la Juve di essere pericolosa con quel tipo di situazioni però secondo me poteva essere esplutata meglio una superiorità numerica che si era creata nel primo tempo con Turam che veniva a giocare qui e con Cambiaso qui come vedete nel primo tempo c'era questo tipo di superiorità qui che si era creata in questa zona di campo questo 3 contro 2 che secondo me la Juventus poteva sfruttare molto meglio cioè nel primo tempo quando Turam lavorava come terzino Cambiaso si sganciava e Ildiz era qui come vedete si creava questo 3 contro 2 che la Juve però non ha mai sfruttato è vero che poi il mediano di parte loro era pronto a scivolare però partiva qui il loro mediano quindi si creava un 3 contro 2 in partenza poi ovviamente lui scivolava ma ovviamente il ritardo quindi secondo me secondo me questa situazione qui con Turam che si apriva Cambiaso che si sganciava si poteva sfruttare molto meglio è vero che se Turam si apre qui lasci tanto spazio a centro campo per eventuali ripartenze loro e questo è vero ti scopri molto certo c'era comunque Locatelli però secondo me si poteva fare qualcosa in più da questo punto di vista comunque io mi fermo e vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti regà